Ciò che conta è la salvaguardia della sanità fanese, senza ambiguità. Sono tutti concordi su questo tono gli esponenti delle quattro liste civiche Movimento 5 Stelle, Bene Comune, Movimento Possibile e La Tua Fano con l'ex sindaco Stefano Aguzzi che si sono ritrovati a formare il tavolo che ha presentato la nuova iniziativa in tema di salvaguardia dell'ospedale di Fano. Una raccolta firme per una mozione popolare da presentare in comune ed un referendum per chiedere ai cittadini di esprimersi sul tema Ospedale unico o mantenimento del potenziamento del Santa Croce? Un tavolo aperto, ci tengono a precisare i promotori dell'iniziativa Chiunque voglia aggiungersi sarà il benvenuto, anzi, precisano fermamente Noi abbiamo contattato sia forze di opposizione che di governo su questo aspetto Siamo aperti a tutti Un riferimento chiaro ed esplicito da parte dei pentastellati al sindaco Seri che se vuole firmare, dicono, sarà il benvenuto In questo periodo ci siamo incontrati, abbiamo dialogato e soprattutto abbiamo trovato una sintesi intorno a dei punti programmatici fondamentali dei principi che ci trovano tutti d'accordo Noi siamo per la salute pubblica siamo contrari ad ogni iniziativa che possa, come dire, sposare il privato convenzionato a Fano siamo contrari a ogni dipendenza dal finanziamento privato per cui su questo ci siamo trovati Vogliamo sapere, effettivamente, in termini di costi e benefici se questo ospedale provinciale, questo nuovo ospedale, abbia un senso sia preferibile ristrutturare, implementare le strutture esistenti Noi partiamo in quattro ma siamo assolutamente aperti ad accogliere chiunque ci vuole stare quindi partiti, associazioni, movimenti, singoli cittadini e saremo presenti in città e speriamo veramente in una partecipazione popolare e democratica Pensate che attraverso questa forma di consenso popolare sia possibile incidere in qualche modo? Noi pensiamo proprio di sì, infatti abbiamo preparato due atti una mozione popolare e un referendum quindi sono due atti distinti che dovranno essere sottoscritti dai cittadini presto cominceremo a raccogliere le firme tramite i banchetti e nel giro di un mese contiamo di aver raccolto le firme sufficienti concludendo il tutto il 30 aprile con una bella manifestazione Si sono dati tempo fino al 30 di aprile i promotori contando sulla sensibilità della cittadinanza per dare un segnale forte e immediato a chi di dovere allestendo punti raccolta firme e giorni predisposti Qui abbiamo un'amministrazione purtroppo sorda alla licenza dei cittadini è un'amministrazione succube del PD, del Partito Democratico sia a livello provinciale che a livello regionale e quindi siamo stanchi di questa situazione e diamo voce ai cittadini per poter riacquistare l'ospedale che era di Unione Romani Faremo dei banchetti in corso a Matteotti e dobbiamo arrivare a raccogliere almeno 4-5 mila firme Speriamo nella volontà dei cittadini che se davvero tengono il loro ospedale ci diano una mano in questa lotta senza fine Occorrono 1.100 firme per la mozione popolare e 2.600 per il referendum che dovranno fare pressione a livello regionale questo è l'auspicio di coloro che hanno pensato a questa iniziativa Noi pensiamo che la strada che ha portato a questa conclusione sia sbagliata e attraverso queste iniziative, la mozione di iniziativa popolare cerchiamo in qualche modo di rimettere in gioco tutta la questione sperando che la regione ascolti la voce dei cittadini e assieme ad essi cerchi di programmare una salute complessiva che solo in parte passa attraverso l'ospedale ma che soprattutto deve trovare risposte sul territorio servizi al cittadino sul territorio questo è quello di cui il cittadino ha bisogno poi l'ospedale rappresenta l'esito finale ma soprattutto chiediamo servizi sul territorio